Imprese Lariane e la Camera di Commercio mettono a disposizione delle aziende un nuovo strumento per redigere un rapporto di sostenibilità. Si chiama CSR Report Semplificato, una procedura semplice e guidata che permette di integrare le informazioni economiche con un rendiconto dell'impatto sociale e ambientale dell'attività aziendale. Un progetto smart che nasce, un progetto Interreg che nasce diversi anni fa dalla Camera di Commercio di Como e che ha accompagnato le imprese dal punto di vista di formazione e di attenzione rispetto alla sostenibilità di impresa. Oggi lo traduciamo dando uno strumento concreto per le imprese che possa in qualche modo raccontare quello che loro fanno al proprio interno. Tra i vantaggi dunque del nuovo strumento la possibilità dell'impresa di comunicare il valore generato anche a livello sociale e ambientale. Vediamo come il mercato si indirizza sempre di più verso una giusta sostenibilità sia dal punto di vista dell'acquisto dei prodotti e quindi l'impresa deve saper dire quello che fa al proprio interno in questo senso. Quindi è uno strumento importantissimo prima di tutto nei confronti dei clienti ma anche nei confronti delle banche stesse perché non ci si presenta più con un bilancio di numeri e basta ma anche di quello che è l'attività dal punto di vista sostenibile. Per compilare il report le imprese devono registrarsi sulla piattaforma online dedicata attraverso il percorso guidato potranno così completare progressivamente le diverse sezioni inserendo le informazioni aziendali.